Presidente, noi l'abbiamo detto più volte in quest'Aula, però è bene ribadirlo un'altra volta. La nostra volontà politica, quella che abbiamo detto in campagna elettorale e che abbiamo ribadito oggi in questo Consiglio straordinario, è che ATAC deve rimanere pubblica. Questa è un'affermazione assolutamente in continuità con quanto è stato detto dal Movimento 5 Stelle in campagna elettorale. Come tutti sanno, se siamo a questo punto, la responsabilità non è del Movimento 5 Stelle. Le amministrazioni precedenti nel corso dei decenni hanno lavorato al saccheggiamento di un bene pubblico, come oramai abbiamo visto fare migliaia di volte in Italia, con un copione che troppe volte si è ripetuto. L'azienda pubblica viene spolpata, indebitata e poi arriva il politico di turno che dice che purtroppo la dobbiamo privatizzare. Non c'è nulla di casuale in questo percorso, anzi al contrario, c'è una precisa operazione di chirurgia politica nel cercare di far fallire le società per regalarle ai privati e questo è ciò che stava per accadere con ATAC, però soltanto che siamo arrivati noi. E qui siamo al teatro dell'assurdo. Roberto Giacchetti, che vedo che adesso sta uscendo dall'aula, si è più volte contraddetto su questo tema in campagna elettorale. Pubblicamente ha dichiarato a coloro che gli chiedevano, ma lei vuole privatizzare? Io, privatizzare? Quando mai? E l'ha detto in un dibattito pubblico. Poi hanno perso le elezioni e che cosa fa Roberto Giacchetti? Corre a firmare il referendum per andare a privatizzare. Ebbene, abbiamo capito che gli elettori hanno poteri medianici nei confronti della mente di Roberto Giacchetti, che gli hanno letto nel pensiero quello che lui non ha avuto il coraggio di dire in campagna elettorale, perché ha negato che voleva privatizzare ATAC e invece poi dopo è andato a correre per firmare il referendum. Questa si chiama incoerenza, cosa che noi per fortuna non abbiamo. E noi abbiamo detto una cosa e stiamo cercando di perseguire quella cosa che abbiamo detto. Noi siamo altro rispetto a tutto questo, rispetto alle parentopoli, soprattutto della destra, al saccheggio delle aziende pubbliche perpetrato in questi anni, vicende che ormai fanno parte della storia anche di questa città. Noi siamo il granello di sabbia nell'ingranaggio economico che intende privatizzare tutto. Infatti rimane ferma la nostra intenzione che ATAC sia gestita bene, che guardi all'interesse generale e non al mero interesse economico. Ed è per questo che la vogliamo pubblica. Dunque, ricapitolando, non solo ci lasciano un servizio ormai allo estremo, con un debito pari a 1 miliardo 350 milioni di euro, che è un vero macigno sulla gestione di questa azienda, ma con mezzi usurati, una vita media degli autobus di oltre 11 anni, che ovviamente rende tutto più complicato. Noi con questa amministrazione per la prima volta abbiamo introdotto nuovi 150 autobus che sono stati sbloccati da questa amministrazione. E voglio dire, e lo voglio ricordare un'altra volta, visto che i consiglieri del PD, anzi la consigliera di Biase, c'è quasi rimasta male che noi abbiamo rimesso in servizio 45 filobus perché li abbiamo trovati abbandonati in un deposito e li abbiamo rimessi in servizio. Dicevamo a qualcuno ogni tanto non funziona, sindaca. Andiamo a vedere, su questi filobus c'è un'indagine della magistratura e noi siamo contro gli sprechi e per questo è stato giusto rimetterli in servizio. Io ho visto adesso che i consiglieri del PD sono tutti quanti usciti, però è interessante perché hanno fatto diverse dichiarazioni che hanno davvero dell'assurdo. Hanno detto più volte che loro hanno fatto tante cose durante l'amministrazione marino. Ma scusate, vabbè, poi magari quando rientrate ve lo chiedo di persona. Perché siete andati dal notaio per sfiduciare marino? Scusate, io non l'ho capito questa cosa. Per quale ragione avete fatto questa operazione se tanto aveva lavorato bene? Noi siamo arrivati e abbiamo trovato le ruote della metro C, quella che ha inaugurato marino, quella lì, proprio quella, che si usuravano dopo 250 mila chilometri invece che 1 milione e 250 mila chilometri. Abbiamo dovuto lavorare per cercare di risolvere questo problema e che in parte abbiamo risolto, in parte, con il deviatoio che siamo andati a mettere. E invece noi ci siamo ritrovati con questo tipo di problemi. Appena inaugurata e già non potevano più circolare i treni della metro C. Solo il Movimento 5 Stelle può prendere una decisione che affronti questi problemi enormi con coraggio e con una modalità attesa ad affrontarli una volta per tutte. E noi abbiamo individuato il percorso del concordato preventivo in continuità. E non siamo qui a fare i giochini del passato, come quello di aumentare il debito e rimandare il problema alle amministrazioni future. Vorrei ricordare anche alla consigliera Celli, che è venuta a dirci che il concordato preventivo non va bene, che lo deve studiare un po' meglio il concordato preventivo perché ha detto che basta un solo creditore perché il sistema si fermi. No, non è così. Veda meglio perché non è così. Questa è una cosa che ha detto in aula ma non è corretta. A questo punto mi preme sottolineare le differenze con la gestione privata. In tutta Italia ci sono città che hanno privatizzato, in parte anche a Roma, e troppo spesso sono emerse criticità sulla qualità del servizio e sul pagamento degli stipendi dei lavoratori, che essendo l'anello finale della catena pagano le malefatte della politica. Noi il prossimo anno, quando faremo il bando per quella parte privata, riserveremo un'attenzione altissima al bando perché non si ripetano i disastri del passato. Oggi parlare di re-internalizzazione del servizio vorrebbe dire fare il passo più lungo della gamba. Finuto questo percorso di risanamento forse si dovrà fare un ragionamento diverso. Sì, è passato un anno. Abbiamo analizzato, lavorato, forse la consigliera Piccolo non se ne è accorta, ma in quest'ala stiamo dando le soluzioni per risolvere i problemi e per cui quelle riunioni che abbiamo fatto hanno prodotto un risultato. L'obiettivo della scelta che stiamo per fare è il rilancio del servizio e il risanamento dell'azienda. Ora comincia davvero un nuovo corso per ATAC, un vero e proprio taglionetto con il disastro del passato. Quel rinnovamento indispensabile per rilanciare il servizio sia chiaro, così come è stato detto dalla sindaca all'inizio di questo consiglio. C'è un aspetto importantissimo che tutto questo deve essere fatto anche stringendo un indispensabile patto con i lavoratori, che in grandissima maggioranza sono sicuramente onesti. E mediante un patto con la cittadinanza noi con coraggio e determinazione lavoriamo alla soluzione definitiva dei problemi per il rilancio del servizio. ATAC deve rimanere pubblica e dei cittadini romani. Grazie.